Questo video sarà forse strano per chi come me non investe in Italia, ma anche qui ci sono delle chicche non indifferenti. Purtroppo le persone, gli investitori, quelli italiani, si concentrano troppo sui 4 o 5 titoli da dividendo pauroso, senza considerare che anche in Italia si possono trovare aziende che oltre al dividendo possono promettere una forte crescita del valore delle proprie azioni. Perché fanno il loro lavoro fatto bene internazionalizzandolo e gestendolo con un marginamento da paura? Bene, andiamo a pescare in Italia le tre aziende migliori a mio parere. Ciao a tutti e bentornati sul canale o risparmio. Come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario Aieff e dottore del libro a meno 35.000 a 0 in 18 mesi, libro del quale trovi link qui sotto nella descrizione di questo video nel caso tu lo volessi acquistare, dove racconto la mia personalissima esperienza da un addebitato seriale ad un investitore risparmiatore consapevole. Trovi link sia per la versione cartacea che quella Kindle e se sentite qualche rumore è che c'è un nuovo ospite in casa, un nuovo membro della famiglia. Come potete vedere si chiama Elsa, è entrata a far parte della nostra famiglia 3-4 giorni prima di Natale. Per cui adesso vai nella cuccia, siamo di silenzio, registo. Partiamo da Ferrari con il simbolo race, quale simbolo altro potrebbe essere dato a questa azienda che non fa solo quello che si pensa, perché tutti sappiamo che progetta, ingegnerizza e produce e vende auto sportive o ad alte prestazioni, perché fa altro ma molto più importante, vabbè parliamo anche di Formula 1, di macchine hypercar, magari anche ed edizione limitata, vetture uniche da pista. Cosa fa di altro? Fornisce oltre alle auto da corsa anche ricambi, motori, servizi post vendita, ovviamente la loro riparazione e manutenzione e il restauro delle atto cosiddette d'epoca, ma non si ferma qui. Infatti offre dei servizi finanziari perché come potete ben immaginare le auto della Ferrari non costano quanto una panda, anche se la spanda. Comunque vende anche beni di lusso e beni per il lifestyle. Ha un parco chiamato Ferrari World a Dubai, un parco a tema e ne ha un altro in Europa a Puerta e Ventura. Sono due parchi a tema che vanno a fornire un'esperienza Ferrari. Parlavamo prima di fornire servizi di finanziamento, infatti offre dei lease indiretti o indiretti sia ai clienti direttamente, per cui i retail, che ai vari dealer, i vari concessionari che gestiscono appunto la venta. Poi ha dei autodromi, il più famoso a Fiorano dove va a testare tutte le sue vetture e anche due musei, uno a Maranello e l'altro a Modena. Maranello, come ben sapete è la sede in cui è nata Ferrari. Il suo marchio vende anche delle linee di abbigliamento, degli accessori, ovviamente monomarca. Al 31 dicembre del 2021 contava un totale di 30 negozi Ferrari al dettaglio, inclusi 14 negozi in franchising e i 16 negozi di proprietà. Vende anche i suoi prodotti attraverso una capillare rete dei venditori autorizzati 172 che vanno a gestire 191 punti vendita sparsi per tutto il mondo, oltre ovviamente a vendere tramite il suo sito web Ferrari Store. È stata fondata nel 1947, come dicevo prima, a sede a Maranello. Fatemi il piacere però di non paragonarla a nessun'altra classica azienda automobilistica, perché è tutto tranne quello, è molto di più, è uno status symbol, come possiamo interpretare Apple per quanto riguarda lo status symbol dei telefoni o dei portatili. Ha un margine lordo del 49%, uno netto del 19%, è un return on investment, è un ROI del 20%, è una macchina per fare soldi con un fatturato in costante aumento, perché il lusso in fondo non tradisce mai. Il suo indebitamento è in costante e fortissime calo anno dopo anno. Parliamo di vendite in America, le vendite sono aumentate al 28% nel 2022, nell'Emea il calo è stato l'unico, diciamo, di tutto l'arco di quelle che sono le loro vendite, di un misero 1,3%. Il dato eccezionale invece è l'aumento per quanto riguarda la parte della Cina-Medland-Hong Kong, che va a fare in più il 73%, distribuisce anche un piccolissimo dividendo che mai non fa, dello 0,67% alle quotazioni attuali. Passiamo ad un'altra eccellenza italiana sparsa nel mondo e queste tre aziende sono aziende internazionali. Brunello Cucinelli, che oltre a, insomma, lo sappiamo tutti cosa produce, abbigliamento, produzione, vendita di abbigliamento e accessori in tutto il mondo, Italia, Europa, Nord America, Giappone, Cina, e produce sia per donna che per uomo delle collezioni che possono includere appunto cappotti, giacche, abiti, maglieria, t-shirt, top, camice, gonne per le donne e pantaloni sia per uomini che per donne, comunque una serie di anche parti relative al vestiario appunto dei piedi, per cui scarpe, mocassini, sandali, pelletterie, gioielli, shopping, insomma chi più ne ha più ne metta. Ma anche in questo caso è uno stato simbolo, non è solo l'abbigliamento, ma è un'azienda molto diversificata perché produce anche dei plaid, delle coperte, dei cuscini, prodotti da studio, candele fra garanze, accappatoi, tutto quanto marchiato Nello Cucinelli, prodotti addirittura per il giardinaggio, articoli da viaggio, borse per il tempo libero, insomma anche stoviglie per mangiare, biancheria da tavola, insomma ceramica, ragazzi, chi più ne ha più ne metta anche in questo caso. Al 31 dicembre del 2021 gestiva 114 negozi a gestione diretta e 30 boutique monomarca all'ingrosso. È stata fondata nel 1978, anno stupendo perché sono nato io, a Solomeo. È controllata al 50% da FedonSRL, azienda non enorme in termini di capitalizzazione, infatti è quotata al Futsimib Small Cap, ma che ha quasi un margine lordo del 53% e un unedito vicino al 10%. Azienda eticamente molto attente ai propri dipendenti e al loro benessere e alla loro cultura, andate a guardare il sito dell'azienda per capire cosa fa Brunello Cucinelli per i propri dipendenti. Vendite che per il 59% provengono dalla porzione retail, mentre per quasi il 41% dall'altra porzione, quella del commercio all'ingrosso. Fatturato che nei primi 9 mesi dell'anno 2022 è stato di 642 milioni di euro, con un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dei 9 mesi dell'anno precedente, il 2021. Le vendite in Europa compongono il 41% del totale, quelle nelle Americhe il 36,5%, mentre l'Asia va a produrre il restante 23% circa. In ambito geografico si potrebbe dire che è ben diversificata anche questa azienda e anche qui un piccolissimo dividendo che non fa mai scontento a nessuno dello 0,93% alle quotazioni attuali. Potremmo farci un drink o più di uno con l'ultima azienda perché vado a parlare di Davide Campari che insieme alle sue controllate non commercializza solo bevande alcoliche ma anche analcoliche e lo fa anche in questo caso in tutto il mondo, Americhe, Medio Oriente, Africa, Europa e Asia Pacifico. E poi andiamo a vedere anche in questo caso le varie porzioni di fatturato. Per cui oltre alla vasta gamma di liquori, di cui conosciamo appunto i più famosi, Aperol Campari, produce anche prodotti a marchio perché sono state fatte tante acquisizioni come Wild Turkey, che appunto credo che sia canadese o americano. L'azienda è stata fondata nel 1860, per cui un'azienda molto antica e molto esiliente nel mercato italiano e a sede a sesto San Giovanni. Opera come controllata di Lagfin SCA che è comunque di proprietà di Lucca Garavoglia, che più o meno è il main man all'interno dell'azienda. Pur avendo sede legale nei Paesi Bassi e a sede fiscale in Italia, l'azienda ha nel tempo effettuato, come dicevo prima, numerosissime acquisizioni di qualità che l'hanno fatta diventare il sesto gruppo mondiale per la produzione e la vendita di bevande alcoliche. A un margine lordo del 60% e uno netto del quasi 13,5%. A mio parere, Granbella azienda ha gestita divinamente. Nei primi nove mesi del 2022 ha gestito una crescita organica del 19% in comparazione allo stesso periodo, i nove mesi, dell'anno precedente, il 2021. Il comparto americano genera quasi il 19% del fatturato e invece l'asse MEA, che sarebbe il Sud Europa, Medio Oriente e Africa, ha generato poco più del 23% del fatturato. Poi abbiamo l'NCEE, l'Europa Cento Orientale, che genera il 18% abbondante e infine il 5,6% viene generato dalla zona APAC, la zona dell'Asia Pacifica. Trend di vendita positiva in quasi tutte le nazioni del mondo, con cui andiamo ad identificare l'Italia più 21% rispetto all'anno precedente, ma poi ci sono anche nazioni come Sud Africa che hanno superato il 63% in più rispetto all'anno precedente, o la Spagna con il 57%, sempre rispetto all'anno precedente. Per l'importantissimo mercato statunitense vediamo un più 15%, azienda che si fa un bel brindisi e che vola tanto. Anche qui piccolissimo dividendo che fa contenti gli azionisti, che si vanno ad aggiungere alla crescita della porzione del valore delle azioni. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste tre mie scelte e se anche tu avresti selezionato queste tre aziende o se ti saresti orientato verso altre. Ne avevi qualcuna di queste in watch list, ne hai altre? Magari le hai in portafoglio o ne hai altre? Per favore fammelo sapere nei commenti qui sotto. Poi se questo video è stato il tuo gradimento ti chiedo veramente di supportarmi con pochissimo con un bel pollice in su, sia per me ma anche per l'algoritmo di YouTube. Che male alla pancia non fa? A te costa un attimo del tuo tempo ma per me, come puoi ben immaginare, significa tantissimo. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che dirti ciao e arrivederci a un prossimo video. Grazie a tutti.